38.000 studenti, quelli che il 16 settembre prossimo varcheranno la soglia degli oltre 100 edifici che ospitano le scuole superiori della marca. Quasi 2.000 alunni in più rispetto all'anno scorso, con tutti i problemi che ne conseguono per la sistemazione dei ragazzi nelle aule. Crescono le iscrizioni ai licei Canove da Vinci in testa, si conferma anche per quest'anno il boom di iscrizioni agli istituti alberghieri. Le problematiche del maffioli di Possagno sono state risolte trasferendo temporaneamente parte degli alunni allevi di Montebelluna, che tra pochi giorni inaugurerà la nuova sede, una delle novità dell'anno scolastico 2015-2016. Inauguriamo a settembre il liceo Levi a Montebelluna, 1.300 posti a sedere, un investimento di 16 milioni di euro. Inauguriamo anche il Planca, un ampliamento dell'istituto Planca nel campus scolastico di Lancinigo. E sono partiti i lavori per l'ampliamento anche qua di una decina di aule al liceo Berto di Mogliano Veneto. Nuovi istituti ma anche vecchi problemi. Rimangono ancora delle gravi criticità, come quella annosa del liceo Giorgione di Castelfranco, e di problemi di manutenzione e messa norma degli edifici storici, come solo per citarne uno, il Riccati in Piazza Vittoria. Dove edifici che sono tutelati in maniera architettonica, nel quale si possono essere fatti gli interventi strutturali importanti, sono quelli che danno un po' più di situazioni problematiche.